Se Claudiano c'ha paura vuol dire che c'è un motore. Se Claudiano c'ha paura è meglio seguire. Andiamo di là ragazzi. Ancora vai avanti. Ancora vai avanti. Vai adesso, muoviti. Andiamo, andiamo. Da qualche parte scendiamo. No, ma la piesta è di là a sinistra tutte e due c'è scritto. Ancora vai avanti. Andiamo. 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 Sì, che luce, c'è uno stile con sta bici, che caccia! Ma che bel salto che c'era di là! Sì, che asparra lì! Guarda quello lì, Lucio! Mi sa scarlegare tutto questo! Guarda quello lì! Certo che scendere con un tappo così davanti! Sì, che caccia! È la prima volta che la provoca!